Sono centinaia i testi pervenuti alla casella postale 4271 di Via Alfieri 10 nella sede storica di Poste Italiane a Torino che ora saranno selezionati per l'edizione 2016 di Lingua Madre, il concorso riservato alle donne straniere che raccontano in lingua italiana la loro esperienza di vita nel nostro paese. Come sempre, la premiazione si terrà durante il Salone del Libro di Torino. La consulta femminile regionale è onorata di sostenere questo progetto Lingua Madre che è diventato ormai un simbolo anche a livello nazionale. Nel programma dell'attività della consulta rientra il sostegno e il supporto alle attività del progetto Lingua Madre anche nell'ottica del filone del dialogo interculturale che è un argomento importante anche per la nostra città e la nostra regione.